Attenzione! Motore! 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 Benzina! Salutiamo tutti di qua ragazzi, sono contento! Festeggiamo? Che lo pio? Che ne vedi? Con te che già eri di un'altra! No, ma non la faccio! Eeeh! Buon amore! Buon amore! Prego maestro, vada! Vai, 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 vai! Fa il suo balletto, va! Con te che già eri di Ubaldo Con te che Ubaldo è Ubaldo Stasera si va tutti a casa di casa E io stasera penso E se non era più Ubaldo pusevo Mietaria, Mietaria, fa diretta E ta 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 Siamo sempre qua nel Backstitch Eeeh! La la la! Vida di bicchiere! Ehi! La la la! 3, 2, 1! Eeeeeh! È gran! È grande! Èej sanguanha! La cala! La cala! La costa! La costa! Ma pure mi dentro la costa Sì capito domani Sì Mietaria, Mietaria, fa diretta salve direttore allora prima che spariati i coriandoli vengo io a che chiudo diciamo no chiudi con noi dopo i coriandoli ti chiamiamo dopo i coriandoli mi raccomando allora visto che questo deve andare su te prima fai pubblicità stiamo nel backstage giusto Dimitri ciao Dimitri ultima puntata abbiamo il cuoco maestro per me prima volta non si scorda mai ho fatto un po' perché io sono un grande attore adesso te l'ho detto sospirato ma posso dirtelo anche così Domenico posso dire una cosa? non c'è rompe di coglioni ho lì signori stiamo facendo il sound check signori e signori non ho mai di chiudono chef per questi casi shh ok un attimo solo prima di iniziare un attimo solo prima di iniziare non c'è un attimo solo prima di iniziare la sto preparando io non so se vi piace però non potevo aspettare perché c'era una tonnetta e ci sono non ti chiamo durante la dai un attimo il micro la pulce a lui un attimo le pulci la pulce mo' mettiamo pure questo centrale con questo si sente no? prova prova stiamo sempre qui nell'ultima puntata ora facciamola al bambino stop dai un buio dai un buio dai un buio no allora amici questa sera la prova del cuoco qui a Upicrasim vende poco di meno che lo chef Pep Stigazzi buonasera buonasera sono io maestro Stigazzi maestro non mi insultate però perché il cognome allora facciamo vedere la sua padella i miei ferri del mestiere maestro la sola canzone sono le tagliatelle di nonna di nonna stai lontano darà la sua cuora mi sa che non era quella allora dimmi un poco come noi con la sinistra voglio fare una stop domenica bestia non pensi da la domenica non la faccio non la faccio è arrivata domenica dammi una padellata domenica bestia domenica bestia domenica bestia domenica bestia